Buongiorno, rassegna stampa oggi da Miami, quindi con un po' di ritardo rispetto ai consueti nostri orari italiani. Mi sono svegliato, in realtà i giornali li ho letti stanotte un po' di ore fa, però non posso farla da segnare, l'una di notte italiana, due ore alle due italiane e mi sono svegliato questa mattina e mi sembra di essere in un mondo alla rovescia, sarà perché sono negli Stati Uniti, ma insomma mi sembra veramente un mondo alla rovescia. Una delle questioni più straordinarie di queste ore, di questi giorni, certo c'è la Russia, c'è la Clinton, c'è il Papa, ci sono i musulmani, però per un attimo facciamo finta di vivere ancora nella vecchia Italia, che aveva i problemi della vecchia Italia. Mi sveglio la mattina e leggo che Gino Paoli, Gino Paoli, il cantautore, era stato intercettato, intercettato telefonicamente, intercettato ambientalmente, perché mi hanno messo una microspia nella stanza di un commercialista in cui lui e la moglie dicono, senti devo far rientrare dalla Svizzera due milioni di euro che avevo portato là grazie ai soldi che mi davano in nero al Festival dell'Unità e la moglie aggiunge, ricordati che al commercialista noi abbiamo le carte molto in un posto segreto che nessuno ci trova in maniera tale che nessuno ci beccherà, però adesso il problema è che abbiamo bisogno di questi soldi in Italia e non vogliamo fare figure di merda perché siamo famosi, non vogliamo fare scudi fiscali e condoni perché sennò si verrebbe a sapere che noi abbiamo i soldi all'estero, questo Gino Paoli. Allora svegliatevi per un secondo e pensate che questa conversazione con un commercialista sia stata fatta da Nicola Porro, Nicola Porro vice direttore del giornale, amico, secondo la vulgata, delle feste di Forza Italia, a cui io non partecipo, non ho mai partecipato mi sembra, ma raramente e sicuramente non mi hanno mai pagato. In realtà Nicola Porro partecipa alle feste di Forza Italia, Forza Italia lo paga in nero e Nicola Porro oltre a essere pagato in nero questi soldi, uno li può tenere a casa sua, ma siccome sono tanti soldi, li porta in Svizzera e poi viene intercettato con un commercialista e viene iniziato un processo. Cosa mi fanno a me? Un culo così, scusate la volgarità, un mazzo così, sono finito, non esisto più. Gino Paoli invece, il PM di Genova, ha chiesto la sua archiviazione perché non si può dire esattamente quando questi soldi li ha portati in Svizzera. Questo rappresenta per i giornali italiani una breve, tranne oggi per Libero che ne fa la foto di pagina 1. Allora io dico, ma vi rendete conto? Vi rendete conto che l'unità, il festival dell'unità pagava in nero? Vi rendete conto che Gino Paoli che ci ha sbomballato le balle, ha fatto il presidente della CIA chiedendo a tutti gli associati di non evadere il fisco, se voi avete un bar e non pagate la CIA perché state facendo sentire la musica, i vostri avventori vi fanno un mazzo così? Bene, il presidente della CIA, il comunista Gino Paoli, il fenomeno? Beh, questo aveva portato i soldi in Svizzera e fa l'evasore, però siccome Gino Paoli, siccome è comunista, comunista non perché sono un berlusconiano e dico che lui è comunista, ma no, perché lui era un comunista, un comunista così, siccome lui è comunista può portare i soldi in Svizzera, può richiedere di portarli in Italia due anni fa e può succedere nulla perché i magistrati dicono che la cosa va prescritta, quindi sappiamo che se uno ha portato i soldi in Svizzera prima del 2008, cosa che per prevedere la legge può essere prescritto e neanche sputtanato, per quanto mi riguarda lui rappresenta proprio l'icona di quella sinistra italiana per cui, come diceva Marchese il Grillo, io sei io e voi non siete niente, diciamo che la diceva così. Il mondo alla rovescia è anche a Roma, la battaglia la stanno conducendo il Messaggero e il Corriere della Sera da un po' di giorni, io sono stato un po' latinante questi giorni ma i giornali li ho letti ed è la questione dell'assessore alla nettezza urbana. Allora, Travaglio ha ragione quando scrive i suoi fondi sul fatto in cui dice adesso sperate che in 20 giorni il nuovo sindaco di Roma risolve i problemi dell'immondizia che valgono anni di mala gestione romana. Era favolosa l'intervista fatta ieri a Cerroni, l'uomo di Malagrotta, fatta dal Corriere della Sera, ma il punto fondamentale non è tanto risolvere i problemi della giunta capitolina, ma è il problema dell'immondizia a Roma. Questo è il vero problema, Roma come altre città, per questa nostra mentalità per cui non si può fare un termovalorizzatore. Ma il punto straordinario è che il Movimento 5 Stelle, che c'ha anche lei, un po' come la sinistra, ci ha rotto le scatole sulla salute fiscale di questo paese, sul mondo di evasori, bene il Movimento 5 Stelle ci hanno rotto le balle sui conflitti di interesse, sulle consulenze, sulle municipalizzate, su quel rapporto incestuoso che c'è tra professionisti e aziende pubbliche. Uno di questi l'ha fatto diventare assessore alla nettezza urbana di Roma. La signora Muraro, Paola Muraro, sarà pure bravissima, ma negli ultimi dieci anni ha preso un milione e virgola sedicimila euro di consulenze dalla società della nettezza urbana. Oggi c'è scritto su Quella della Sera attraverso un'intervista del suo presidente, dimissionario, in cui questa signora contava e come, anzi doveva essere assunta come dirigente. Bene, ha preso consulenze, per me va benissimo, può essere tranquillo che uno prenda consulenze per un milione di euro, però a quel punto non mi fate la retorica, per favore, Movimento 5 Stelle, sul fatto che tutto il passato faccia schifo, sulle consulenze della municipalizzata e soprattutto che negli ultimi quindici anni Roma si sia rubato sull'attezza urbana. Perché, cari amici miei, se negli ultimi quindici anni si è gestita male la nettezza urbana e vi prendete come assessore uno che per gli ultimi quindici anni ha lavorato, strapagata per la nettezza urbana di Roma, una piccola contraddizione c'è. O sono io che sono anti-grillino a prescindere? Vi assicuro che non è così. Io non voglio dare un giudizio sulla raggi, non ha ancora iniziato, do un giudizio però sull'ipocrisia politica, per cui tu ti prendi come assessore una che per quindici anni ha lavorato all'interno e all'esterno dell'azienda municipalizzata ed è strapagata. Insomma, se volete capire, capite, se volete fare, voglio dire, l'ideologici, non capite. Il mondo alla rovescia è quando leggo che il giornale, lo fa Alessandro Sallusti, difende la Berlinguer, direttrice del TG3, non perché questo sia sbagliato in sé, ma perché è incredibile che il giornale è arrivato al punto di difendere la direttrice del TG3, direttrice comunista del TG3. Scherzo perché la Berlinguer, certo, non è comunista, ma è una donna di sinistra. Perché mi viene da ridere? Mi viene da ridere perché il ragionamento che fa Sallusti è, anche qui, il mondo è l'incontrario. Pensate un po' voi come se con il solito colpo di mano che si fa ad agosto in Rai cambiano il direttore del TG3 non gradito al governo. Il governo ha sempre detto che non gradiva la Berlinguer, l'ha sempre fatto capire in tutti i modi che cosa succede, probabilmente nei prossimi giorni sostituiranno la Berlinguer con una persona che è più gradita. Mentre farà questa cosa lì il conte Mascetti, Renzi sta all'inaugurazione delle Olimpiadi, quindi dice, ma io che volete che ne sappia, sono qua, mi sto guardando le Olimpiadi, non ho idea di quello che avviene a Roma, cosa che ovviamente non è vera. Renzi come Erdogan, il titolo è un po' forzato certamente del giornale perché Erdogan i militari li arresta e li mette, come abbiamo visto, in nudi nelle palestre, però il concetto che vuole esprimere evidentemente il giornale è che per piccoli passi si perdono le proprie libertà, non tutte insieme e la libertà di stampa è una di quelle libertà che bisogna tutelare. Questa è la teoria del giornale, esagerato o non esagerato, comunque è molto divertente l'idea che il conte Mascetti si occupi delle direzioni dei telegiornali, uno che non riesce neanche bene a capire quello che ha appena detto. Ultimo tema che mi piace moltissimo è il pezzo molto ben fatto da Sabino Cassese oggi sul Corriere della Sera, nessuno, penso di voi, lo condividerà, ma io lo condivido al 100%, perché Sabino Cassese dice che uno dei motivi di cui non si è parlato molto in Italia sul fatto che le banche siano in crisi, stamattina sono aperti i mercati dopo che sono stati fatti gli stress test sulle banche italiane, gli stress test sono una cazzata, scusatemi il termine, perché in realtà non prevedono il cigno nero, ma questo è un tema molto difficile in economia, cioè si prevede uno scenario molto negativo, ma in realtà la previsione di uno scenario molto negativo non è mai prevedibile, perché è sempre una cosa che tu non ti aspetti, quello che purtroppo fa crollare i mercati, aperta la parentesi e chiusa la parentesi di una mia piccola teoria economica, ma comunque non è questo il tema, il tema fondamentale è che Sabino Cassese oggi sul Corriere della Sera cosa dice? Dice che ragazzi noi ci stiamo lamentando il sistema bancario italiano, ma il vero problema è anche il sistema giuridico italiano, per cui quando una banca presta dei soldi a una persona e quella persona non gli restituisce questi soldi, fino a prova contraria in tutto il resto del mondo, ritornare da parte della banca indietro dei propri soldi che non gli sono stati restituiti, è una cosa che giuridicamente si riesce a fare con una certa semplicità, con le tutele del creditore e con le tutele del debitore, ma con una certa semplicità, in Italia passano anni, siccome questo non abbiamo il coraggio di dirlo e non abbiamo il coraggio di affrontarlo, oggi il sistema bancario italiano, oltre ai suoi problemi, oltre al suo management, oltre alle pippe che l'hanno guidato negli ultimi anni, ha un'impalcatura giuridica, per cui se tu non paghi un debito alle banche, la banca prima di ritornare indietro dei soldi che ti ha prestato, anche se tu ce l'hai, passerà molto tempo. Questa è una cosa molto delicata perché non si vuole sentir dire, è una riforma che renda più semplice l'espropriazione delle case, ad esempio, di persone che devono pagare i loro debiti, è una cosa dura da fare, ma in qualsiasi parte del mondo se tu non paghi un debito ti riprendono i soldi che tu hai indebitamente preso o che non sei stato in grado di ripagare. Duro, durissimo, questo è un grande tema che sarebbe bello affrontare in maniera intelligente e seria, Cassese oggi lo fa e secondo me va la pena di leggere. Io ho praticamente completato oggi il mio libro che uscirà a settembre, si chiama La disuguaglianza fa bene, ve ne parlerò diffusamente, vi farò una testa così su questo libro perché ci ho messo molto tempo, come tutti i libri è stato faticoso, però spero che voi lo possiate apprezzare. Direi che per oggi è tutto, anche se a tarda ora, noi ci vediamo, spero domani, purtroppo sempre a quest'ora perché io ho due alternative, o prima di andare a dormire qua in America, che vuol dire fare la segna stampa al 1 al 2 di notte, il che sarebbe un po' eccessivo, o se no questo spezzone di diretta, farlo con voi oggi, che sono le 9 qui, quindi sono le 3, le 9.05 qua sono le 3 in Italia, che forse è un orario un po' migliore. Comunque è iniziato agosto e per chi è in vacanza, buone vacanze, per chi non lo è, buon lavoro, ciao!